La categoria di 11 e di 12 che hanno preso in via per questa serie numero 4 La categoria di 11 e di 12 La categoria di 11 e di 12 Il passaggio ufficioso è 400 metri E' un ricordato 11 e di 13 E' un ricordato 11 e di 13 Il passaggio ai 400 metri E cresce il ritmo di corsa per Annalisa Minetti e Stefano Ciallella All'ingresso sul retieno finale di gara Minetti va a chiudere la gara nel tempo ufficioso di 2.25.61 Il risposto della gara dice pubblicamente Primo giro coperto in 1.14.37 Il secondo giro in 1.11.24 È un risultato finale ufficioso di 2.25. Annalisa 2.25.61 Un tempo veramente buono dopo un periodo in cui hai sofferto un po' Allora sì esatto è un tempo buono perché ho sofferto molto nell'ultimo mese in quanto non ho corso Se ti devo dire che è un tempo buono per me no Io valgo 2.20 e quindi non vedo l'ora di farlo Quindi sto piede deve assolutamente tornare a posto Questa distorsione mi ha fermato per un po' Però devo dire ho lavorato in acqua mi sono innamorata dell'acqua Cioè non vuol dire che farò triathlon Non vi preoccupate ma sicuramente però farò doppi allenamenti per recuperare in quanto prima la mia forma fisica E rendere felice il mio presidente Porru con un bel 2.20 se non 2.19 qualcosa Grazie Annalisa Grazie a voi Grazie